No, vabbè, nessuno va bene, questa è una gare cosa, te l'ho ricordato, no? E uno creda lì anche alla cosa, anche alla... Tu la musichetta la puoi mettere invece? No, non posso mettere la musichetta, aspetta. Se le riuscire lì, lo sapete. Aspetta, 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 aspetta Elio. Grazie. No, non lo puoi vedere, il suo, perché è stato frantumato, eh? Un croce di legno dentro. Ce l'abbiamo prima e dopo. Prima e dopo la cura. Amo. Di me lo che fa bene! Ah, disangelo! Aspetta, andiamo! l'abbiamo E' il colore sul picchio. Alla prossima. Tu metti quel colore adesso che poi ci metto la luce. E' un affattuto troppo. Ah ma la base, la vera base è nulla qui. L'idea era quella ma... Ah, la vera base, dice, non si stirà. Ah, la vera base è nulla qui. Ah, la vera base è nulla qui. Ah, la vera base è nulla qui. E' un po' di più. No, il bambino è grazie a Vitti, dirà di là comunque. Non so che c'è il bambino. Vitti. E' un po' di più. 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 Grazie mille. 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 la firma ha messo? No, devo metterla, io non so dove metterla, va bene, ho metto anche l'angolo ti piace? Bello, lo facciamo anche quando è piazzato benissimo aspetta cosa dice eh, cazzo di mamma di schotello, quando noi non le manItziano, non ce ne vede ma come è non via? io manco ho visto la occa guarda quelle piante bello anche questo pieghivo che c'è, cosa è? La colla è quella C'è un riflesso delle... Ma niente, possono essere luci quelle delle finestre Così, no, vedi, le finestre sparescono? Eh, infatti Posso fotografare lo stesso Perché tanto ritaglio la parte di sopra Questa ti per la parte di sopra Non mi sembra che sia stato fisico Non mi sembra che volendo Sì, non mi sembrava